L'azienda si chiama Elisir e noi nasciamo nel 1998 quasi per gioco come importatori di sciarpe dove siamo soci in una piccola azienda del cashmere quindi è iniziato proprio quasi come un gioco abbiamo iniziato a importare sciarpe in cashmere il nostro prodotto è un prodotto medio-alto-alto poi nel 2005 abbiamo conosciuto una stilista giapponese e con lei abbiamo importato la sua collezione che nasce, lei produce tutta la sua collezione in tessuto in cotone, in sciama e in laicotto noi avevamo poi necessità di un tessuto più pesante più caldo per l'inverno e abbiamo inserito l'ortica, la lana yaki la lana, il bambù e la stilista si chiama Takahaki e ormai è dal 2005 che lavoriamo con lei lavoriamo nel nord d'Italia il gusto è un gusto prettamente giapponese con dei volumi abbastanza importanti non è una moda ma è uno stile cosa che io dico sempre infatti i nostri capi anche se sono di dieci anni fa sono sempre belli e sono sempre molto portabili i tessuti si lavano ad acqua io questo lo dico sempre perché è molto importante sono tessuti fatti su telaio i colori sono vegetali si lavano ad acqua in lavatrice a 30 gradi e il tessuto più viene lavato e più viene bello perché si gonfia poi qualche anno fa abbiamo inserito anche una piccola collezione di maglieria sempre disegnata dalla stilista la maglieria è in Kashmir e Kashmir lana e viene prodotta in Kashmir nella nostra piccola azienda è una tuscia questa è una sciarpa completamente fatta su telaio a mano ed è ricamata a mano ed è una sciarpa preziosa un'altra sciarpa molto bella con lavorazione cani è questa sempre fatta in Kashmir ha questa lavorazione molto importante se noi vediamo per esempio la parte dietro è molto bello perché è bella da mettere da tutte e due le parti e si vede proprio tutto è fatta come un tappeto è una gonna e il tessuto è il tessuto di cui vi parlavo prima in ortica poi un'altra cosa importante che c'è la lavorazione questa per esempio è una lavorazione pinch work che è così una caratteristica sua questo è un light cotton i cotoni sono tutti i tessuti sono tutti fatti su telaio e i tessuti sono indiani poi abbiamo inserito il bambù questo è un capo realizzato in tessuto bambù questo poi è un capo spalla che lo possiamo mettere sui due lati da un lato diventa un cappotto lo ribaltiamo diventa un giaccone ed è diciamo un capo che dà un certo direi un certo valore un certo pregio alla collezione è una borsa e la sua caratteristica è il tipo di lavorazione nel tessuto i tessuti sono le lavorazioni sono tutte fatte in modo artigianale i capi sono fatti tutti in modo artigianale quindi questo tessuto è fatto proprio è cucito per fare questa borsa per esempio ci vogliono più di sei metri e mezzo di tessuto ed è questa la possiamo mettere anche come zainetto ecco per esempio quest'altro capo è di nuovo un capo in ortica e i colori quando si lavano due o tre volte perdono un po' quel colore piatto e il tessuto diventa più bello e il tessuto e il tessuto è di nuovo un capo Grazie a tutti.